La REMS di Barete ha assunto ormai un aspetto sempre più detentivo e sempre meno una definizione sanitaria e riabilitativa. È quanto si legge nella relazione dell'osservatorio sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e sulle REMS dopo la visita del 15 ottobre scorso. La legge 81 del 2014 abolisce gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, che vengono sostituiti con le REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. La differenza è che, poiché chi ha una patologia mentale e commette un reato, può essere prosciolto dal giudizio, non avendo una pena certa, chi entrava negli OPG spesso non aveva alcuna prospettiva di uscita. Nelle REMS invece la permanenza massima dei pazienti corrisponde al massimo della pena prevista per il reato commesso. Ovviamente questa è la tutela che la REMS ha fatto per superare la vergogna degli ergastoli bianchi. In Abruzzo c'è un'unica REMS, a Barete, nell'Aquilano, che accoglie 20 pazienti da Abruzzo e Molise. Qui le libertà sono state limitate già prima dell'emergenza coronavirus, così da rendere la residenza sempre più simile a un istituto penitenziario. La gestione e il controllo della REMS ha pensato di separare gli ambienti clinici da quelli abitativi, installando porte blindate, aumentando la limitazione della libertà dentro la REMS e tutto questo prima del coronavirus è già avvenuto. Poi per scelta della direzione è stato già interrotto oltre sei mesi prima dell'emergenza del coronavirus è stato interrotto a questo accesso alla REMS da parte delle associazioni di volontariato. E oggi con l'emergenza coronavirus le libertà personali dei pazienti sono ulteriormente limitate, benché nessuna ordinanza ministeriale abbia permesso alcuna iniziativa di questo genere. I parenti non vanno più a visitare i loro congiunti, delle uscite programmate in piccoli gruppi con persone con un livello di rischio limitato che prima uscivano sicuramente hanno visto interrotta questa attività. Immaginiamo che noi ristretti nella nostra casa abbiamo vissuto la nostra sofferenza psicologica, ristretti in una struttura che seppur sanitaria, come dicevo prima, poi è andata ad avere caratteristiche sempre più detentive ultimamente, è una sofferenza indubbiamente maggiore. Il rischio è quello che con un irrigidimento delle condizioni di vita aumentino i disagi dei pazienti, disagi che potrebbero essere appianati in maniera semplicistica e pericolosa tramite un utilizzo più massiccio di psicofarmaci. Ora, se questo può aver comportato che per sopportare di più la situazione di sofferenza si possa provvedere con un intervento di tipo farmacologico, non lo escludo. Questo purtroppo accade anche al di fuori della REMS, anche nella salute mentale del territorio, nei centri di salute mentale. I trattamenti farmacologici ovviamente hanno avuto purtroppo un'espansione, anche in un modo esagerato forse, ma pensare di progettare una guarigione, una uscita dal circuito solo con l'intervento farmacologico è assolutamente perdente.